qui dicono che il momento migliore per andare in sicilia è tra fine settembre e ottobre per me andrebbe bene la maggior parte dei miei colleghi prende le ferie ad agosto ottimo perché a quanto pare durante i mesi estivi si muore di caldo e guarda qui a fine settembre c'è la sagra del pistacchio di bronte ah vero se non sbaglio la mia collega ci è andata due anni fa domani le chiedo qui c'è il pdf del volantino dell'anno scorso con le foto dell'ultima sagra ma quante bancarelle di prodotti tipici e questo trenino è la ferrovia circometnea che collega i paesini dell'etna a catania ma che carino qui consigliano di visitare anche la pinacoteca di bronte e il castello nelson io vorrei andare in qualche riserva naturale in dieci giorni riusciamo a fare di tutto di più va bene domani chiedo le ferie ti prometto che entro una settimana prenotiamo i biglietti